La stazione radio Cremona 324 di Paderno Ponchielli, che svetta nella campagna cremonese accanto al cimitero, ha diviso il Consiglio Comunale per i possibili problemi connessi al 5G. L'antena infatti viene usata dalla compagnia telefonica Eliad, che l'ha rilevata dalla Wind, e la Eliad, che sta aumentando la presenza sul territorio con nuove antenne anche a Cremona, è abilitata a trasmettere in futuro il segnale dell'internet delle cose. Inoltre la maggioranza, che si riconosce nel sindaco Cristiano Strinati, Lista Civica per il Bene Comune, ha approvato l'inserimento della piccola area che regge l'antenna e un locale di servizio nel piano delle alienazioni, rinunciando così a incammerare l'affitto. Il sindaco oggi ha sottolineato che il 5G non è autorizzato e che è l'unico dato di fatto che risulta dai documenti l'inserimento del terreno nel piano delle alienazioni del comune. Paderno, insomma, non è comune capofila di un progetto pilota di tipo terroristico. La minoranza, insomma, agiterebbe le acque per fare polemica. Parte della popolazione però non si sente del tutto sicura degli eventuali rischi sanitari nel caso in cui venga autorizzato il 5G, come dimostra anche l'ampia partecipazione di pubblico alle assemblee organizzate a Crotta d'Adda dal comitato locale, una volta saputo che Crotta era stata inserita assieme a Tornata, tra i comuni che avrebbero sperimentato per primi il 5G. Paderno, Ponchieli, d'altra parte, si trova ancora privo della banda larga e in paese si resta collegati soltanto al 3G. Ma non tutti desiderano ricevere un flusso dati decisamente più potente se restano significativi dubbi su effetti negativi sulla salute. Fausto Merli, della lista civica Comunità Futura, ha dichiarato che autorizzare il 5G potrebbe creare danni, che, se l'area fosse sua, preferirebbe riscuotere l'affitto che venderla e che la copertura internet a Paderno Ponchieli è medio-bassa e il potenziamento non da cavo dovrebbe essere garantito dallo Stato. Grazie a tutti.